Quindi nella lezione di oggi, come già vi avevo accennato ieri, inizieremo a parlare, a fare qualche esercizio semplice che utilizzi di fatto le conoscenze che abbiamo finora. Prima di andare avanti con l'altro argomento di programmazione che è le stringhe, che inizieremo forse probabilmente da parte di oggi e termineremo sicuramente la settimana prossima. Allora, io trovo questo esercizio che c'è qua sulle slide, utile magari per poter provare a ragionare insieme, è molto semplice questo esercizio, però ci aiuta un pochino a ragionare insieme sul modo di procedere. Il sottotitolo di questa slide, lo leggiamo, è prima si pensa all'algoritmo, poi si scrive il codice Python. Quindi questa è un'abitudine che dobbiamo prendere ed essere ben sicuri di concentrarci sull'algoritmo risolutivo, quindi sui vari passaggi, ragionare sul problema, capire come affrontarlo, e poi scriveremo il codice, ovviamente ci dovremmo arrivare lì. Allora, il problema che viene proposto è questo, è quello riassunto in questa parte sottostante. Leggendo il problema, la prima domanda che ci facciamo, che adesso leggeremo insieme, la prima domanda che ci facciamo è, ma noi sapremmo risolverlo a mano, manualmente, se ci fosse dato questo problema? Al di là del fatto che magari ci impiegheremo molto tempo, perché ci sono molte elaborazioni da fare, ma sapremmo quali operazioni fare, manualmente, perché se io non so come risolvere manualmente un problema, non ho nessuna speranza di riuscire, diciamo così, a insegnare a un calcolatore come lo si può risolvere, quali sono i passaggi necessari per risolverlo. Quindi dobbiamo innanzitutto saperlo risolvere e poi ragionare su noi stessi, su come ne affronteremmo la soluzione. Allora, leggiamo il problema, così poi ci ragioniamo sull'esempio. Il problema ci chiede di posizionare lungo un muro una fila di piastrelle nere e bianche. Quindi tu hai una parete e devi posizionare delle piastrelle. Per ragioni estetiche, l'architetto ha specificato, e qui c'è sempre gli architetti di mezzo, che la prima e l'ultima piastrella devono essere sempre nere. Quindi dobbiamo avere piastrelle bianche e nere alternate, ma la prima e l'ultima della fila devono essere sempre nere. Questo è un requisito, una specifica. Noi dobbiamo calcolare il numero di piastrelle necessarie, e ovviamente nel caso in cui il numero di piastrelle, diciamo così, non abbia una lunghezza esattamente uguale a quella del muro, ci sarà dello spazio vuoto ai due lati. Ecco, questo spazio vuoto ci chiede che sia uguale, uguale dalle due estremità, ovviamente per simmetria. Quindi questo spazio vuoto a sinistra deve essere uguale allo spazio vuoto a destra. Allora, questo è il problema che dobbiamo risolvere. Ci viene chiesto di calcolare il numero di piastrelle necessario e lo spazio vuoto all'estremità della fila di piastrelle. Ovviamente ho dei dati di partenza, i dati di partenza sono la lunghezza totale del muro e ovviamente la dimensione delle piastrelle. Questa è una piastrelle, non c'è scritto nel testo, però lo deduciamo dalla figura, che sono piastrelle di tipo quadrato. Quindi, prima di tutto, come dicevo, ragioniamo sul problema. Ragioniamo sul problema e chiediamoci, magari facciamo qualche esempio a mano, per riuscire a capire come sia possibile affrontarlo. Allora, per applicare il metodo che vi ho detto ieri, nel senso che prima scrivo i commenti per ragionare su un problema e poi scriverò il codice, trasformerò via via questa cosa nel codice, allora posso già crearmi, qui avevo già aperto preventivamente il PyCharm, sul progetto settimane 2, creo un nuovo file che posso chiamare piastrelle, che è un file Python, ma per ora lo usiamo semplicemente come file che contiene delle spiegazioni, del testo, lo usiamo per ragionarci, poi poco per volte diventerà il programma. Quindi, proviamo a riassumere ciò che vogliamo risolvere. Noi abbiamo dei dati di partenza, di partenza, quali sono e quali sono i dati da calcolare. Adesso non preoccupiamoci che lui si scena tutto in rosso perché lui cerca di capirlo come se fosse scritto in Python e quindi si arrabbia per la sintassi, ma per ora stiamo solamente scrivendo in italiano, poi commenteremo tutto e scriveremo il codice. Allora, quali sono i dati di partenza di questo programma? Sicuramente la lunghezza del muro e il lato della piastrella, che supponiamo quadrata. Questi sono i due valori di partenza con cui poi dovremmo lavorare. Non ci sono altre informazioni che ci servono, di tipo numerico. Tutto il resto è fisso, nel senso che noi sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo che la fila delle piastrelle deve essere centrata, sappiamo che dobbiamo iniziare a finire con una piastella nera, queste non sono informazioni che possono cambiare di volta in volta. Poi, sulla base di questi requisiti, possiamo anche scriverlo, ma requisiti di progetto. I requisiti di progetto sono essenzialmente che devo riempire al meglio lo spazio disponibile, perché altrimenti basterebbe mettere una piastella nera al centro della stanza e avrei finito. Devo iniziare a terminare con una piastella nera e poi devo lasciare lo stesso spazio a sinistra e a destra. Ai due lati. Cosa dice Gioele che il numero di piastrelle deve essere dispari? Questa è una conseguenza di questo iniziare a terminare con una piastella nera. Lo useremo sicuramente, questo dato, ma non è un dato in più, è una conseguenza numerica di quello che è un requisito di progetto, che è quello di iniziare a terminare con una piastella nera. Ecco, alla fine cosa dobbiamo calcolare? Dobbiamo calcolare il numero di piastrelle bianche, bianche, nere e totali da posizionare, e lo spazio da lasciare in ciascun lato. Per ragioni semplicemente di sintassi, fatemi mettere il cancello, non so se si legge meno, però vabbè. Tolgo i commenti per il momento, anche se c'è tutto il rosso, solo perché essendo nero e non grigio si vede meglio. Allora, noi abbiamo dei dati di partenza, abbiamo dei dati da calcolare e delle regole con cui dobbiamo calcolarli. Questa è la sintesi del problema che vogliamo risolvere. Ci sono dei dati di cui dobbiamo meglio specificare, ad esempio, lunghezza del muro, ok, espressa in come? In metri o in centimetri, ad esempio. Dal lato della piastrella, espresso in metri o in centimetri. Il numero di piastrelle da calcolare, vabbè, questo è un numero, quindi non ha unità di misura, ma lo spazio di lasciare, anche qua, dobbiamo indicarlo. Conviene sempre essere espliciti rispetto al tipo di dato che acquisiamo, quindi possiamo dire che la lunghezza del muro sia in centimetri, dal lato della piastrella in centimetri, lavoriamo tutto in centimetri, ok? E lo spazio di lasciare a ciascun lato, anche esso lo esprimeremo in centimetri. Così, a questo punto, sappiamo interpretare il valore numerico. Abbiamo, proviamo a fare un esempio, e magari per fare questo esempio, diamo dei nomi a queste variabili. Questa la chiamiamo lunghezza mura, e uso già una, la scrivo già in un modo che, diciamo così, mi suggerisca la variabile Python nel quale voglio memorizzarla. e questo lo posso chiamare dimensione piastrella. E il risultato da calcolare sarà numero di piastrelle e lo spazio da lasciare sarà spazio vuoto. Io ho indicato, in questo caso in maiuscolo, i dati di partenza, perché sono delle costanti, in qualche modo non cambiano, e mentre invece il numero di piastrelle, lo spazio vuoto, lo ho indicato in minuscolo, perché sono delle variabili, dei valori che dovremmo calcolare. Quindi, esempio, metto dei numeri a caso, se noi avessimo lunghezza muro, un muro di, che ne so, 310 cm, e avessimo la dimensione della piastrella, sto inventando, 25 cm, come lo risolveremmo? Quindi, la prima domanda, proviamo un esempio, cerchiamo di capire che ragionamento faremmo. A me non interessa adesso il risultato. Nel numero di piastrelle può essere 7, può essere 30, non lo so, ci arriviamo, ma l'importante è il ragionamento che facciamo per arrivare al risultato, perché poi è questo ragionamento che dovremmo riuscire a codificare. Quindi, cerchiamo di risolverlo facendo attenzione ai passaggi mentali, non tanto ai passaggi aritmetici, quelli sono facili. Allora, come posso ragionare? Beh, io innanzitutto ho, abbiamo detto, ho il muro, ho un po' di spazio vuoto del muro, e poi comincio a avere la prima piastrella, la seconda piastrella, la terza piastrella, una serie di piastrelle, sulla testa lo disegno in questo modo, un po' strambo, però ci aiuta a ragionare, questa piastrella è nera, questa è nera, questa è nera, questa è nera, questa è bianca, questa è bianca, questa è bianca, no? Questa potrebbe essere una rappresentazione. Allora, noi possiamo subito usare la proprietà che la prima e l'ultima piastrella debbano essere nere, e quindi sapere che il numero di piastrelle totali deve essere un numero dispari, come diceva Gioele prima, un attimo fa nella chat. E quindi possiamo immaginarci quante piastrelle ci possono essere. E ci sarà, se noi lo decomponiamo in modo diverso, ci sarà una piastrella nera iniziale e poi tante coppie di piastrelle, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero. E quindi la lunghezza totale, diciamo così, che è lo spazio occupato dalle piastrelle sarà del tipo 1 più 2 volte diciamo le bianche. c'è una piastrella sempre che è un nero, poi ogni volta che metto una bianca devo anche mettere una nera. Ovviamente tutto, quindi il numero di piastrelle che metterò se ho 5 bianche in totale ne avrò 6 nere, se ho 3 bianche avrò 4 nere. Quindi in totale ho un valore che è del tipo 1 più 2 per qualche cosa. Questo è il numero di piastrelle, lo spazio occupato ovviamente è uguale a questo numero di piastrelle per la dimensione della piastrella. Quindi un numero mi dice se io sapessi quante piastrelle bianche ho mi direbbe quanto spazio occupato rimane. Michele mi dice potrei dire che il numero di piastrelle nere è uguale al numero di piastrelle bianche più 1 che è la stessa cosa che abbiamo fatto qua nel senso che il numero di piastrelle totali è uguale l'avrei potuto scrivere forse Michele l'avrebbe scritto che piastrelle totali uguale numero nere più numero bianche. e a sua volta il numero nere era il numero bianche più 1 quindi avresti scritto numero bianche più 1 più numero bianche che è ovviamente la stessa cosa che scrive due volte numero bianche più 1 quindi alla fine arriviamo allo stesso risultato espresso in modo diverso ok quindi siamo tutti d'accordo sul fatto che questa sia la formula che mi dà dato il numero di piastrelle bianche mi dà il numero di piastrelle totali che è 2 bianche più 1 ah sì scusate un più non è un per 1 più 2 per bianche adesso capisco perché c'erano dei dubbi e il numero di piastrelle totali che mi dà la dimensione totale questo è un conto facilino noi però dobbiamo lavorare al contrario nel senso che noi abbiamo come incognita in un certo senso il numero di piastrelle bianche quindi quello che possiamo dire è che il numero di piastrelle totali dovrà in qualche modo riempire lo spazio disponibile quindi questa è la formula che mi dice quanti piastrelle totali ho la posso scrivere come 1 più 2 volte il numero di bianche per dimensione di piastrella mi dà lo spazio occupato questo spazio occupato deve essere minore cioè l'idealmente dovrebbe essere se fossimo fortunati dovrebbe essere uguale metto un punto interrogativo potrebbe essere uguale alla larghezza del muro lunghezza muro l'ho chiamata deve essere il più lungo possibile non potrà essere uguale a meno che non sia esattamente un multiplo e se non fosse uguale sarà un pochino minore ma devo trovare il numero di piastrelle bianche oppure di coppie bianco nero più grande possibile in modo da riempire il meglio possibile questo muro quello che noi possiamo provare a fare è fare un calcolo contrario se lo spazio occupato idealmente fosse uguale alla lunghezza del muro e questo spazio occupato è dato da questa formula io potrei dire che il numero di piastrelle lo posso provare a calcolare vediamo poi se viene piastrelle totali lo posso provare a calcolare prendendo la lunghezza del muro e dividendolo per la dimensione della piastrella fin qua era facile il problema è che mi verrà un numero che sarà sicuramente frazionario e non è detto che sia pari o dispari mentre invece il numero che voglio io deve essere necessariamente dispari allora proviamo a metterci dei numeri nel nostro esempio avevamo che la lunghezza del muro è tra 110 cm diviso la dimensione della piastrella che era 25 cm quanto fa? se facessimo questo calcolo beh possiamo farcelo fare da python 310 diviso 25 fa 12,4 piastrelle metto tra virgolette perché le piastrelle non sono una cosa frazionaria no? allora 12,4 è un numero frazionario non mi va bene ma se anche ne prendessi la parte intera che farebbe 12 non mi piacerebbe è lo stesso perché non posso mettere 12 piastrelle se il mio numero totale di piastrelle deve per forza essere dispari te ne ho d'accordo? in realtà da qui capisco che cosa capisco che devo avere 11 piastrelle totali di cui 5 bianche e 6 nere allora questo passaggio dobbiamo trovare trovare un metodo una formula che in generale mi permetta di passare dal numero di piastrelle ideale in certo senso 12,4 al numero di piastrelle totali che voglio effettivamente mettere tenendo conto del fatto che devono essere dispari quindi questo numero qui cosa dovrà essere? proviamo a scrivere la parole il più grande numero dispari minore uguale a 12,4 al valore della divisione quindi Marco dice allora controlla se è pari o se è dispari se è pari togli uno cioè fai la parte intera poi se è pari ne togli ancora uno se invece la parte intera è dispari ti accontenti così potrebbe essere un metodo ok questo potrebbe essere un metodo quello che ha scritto Marco che vi ho letto parole per ottenere questo risultato cerchiamo sempre di distinguere quello che è il risultato dal metodo l'obiettivo dal calcolo l'obiettivo è trovare un numero che abbia questa proprietà come faccio a calcolarlo vabbè un modo è quello di prendere la parte intera ed eventualmente sottrarre uno ok per ottenere che cosa per ottenere un numero che abbia queste proprietà quindi cerchiamo sempre anche solo mentalmente nel nostro ragionamento di prima decidere quali sono le caratteristiche del valore che sto calcolando e dopo scrivere la formula perché se uno ragiona solo sulla formula gli viene fuori una cosa ma poi non è sicuro che diciamo sia valida in tutti i casi un altro approccio quello che invece ci propone Attila è di dire ma potresti che è anche un altro approccio diverso da questo però altrettanto interessante dire no io non faccio questa divisione qui quindi diciamo fatemi scrivere l'alternativa io calcolo la lunghezza del muro meno la dimensione di una piastrella fratto la dimensione della piastrella e questo è anche carino perché lui dice lui o lei scusami non so decodificare il nome io una piastrella nera ce la devo avere comunque sempre che è questa quindi cominciamo a togliere lo spazio occupato da questa piastrella andiamo a vedere quanto spazio rimane lo spazio che rimane deve essere fatto di piastrelle a coppie anzi a me verrebbe quasi da mettere a questo punto scusami se completa il tuo ragionamento un bel 2 qua sotto e quindi direi che le coppie di piastrelle devono essere questo valore qua ovviamente prendendo l'intero inferiore quindi ci sono modi diversi di calcolare lo stesso risultato vediamo se ci sono altri modelli se il numero di piastrelle è divisibile per 2 allora fai meno 1 sì questo qua diciamo così si riferisce al primo caso se la dispari togli la parte dopo la virgola se la dispari dopo la parte dopo la virgola quindi ci sono due modi se io provassi a scrivere in formula il primo metodo direi che il numero di piastrelle bianche scusate il numero di piastrelle totali provo a scriverlo in formula adesso totali sarebbe uguale alla parte intera di lunghezza muro diviso dimensione piastrella e poi se piastrelle totali è dispari scusate pari allora lo decremento di 1 gli tolgo 1 dalla piastrelle totale che avevo calcolato tolgo 1 questa altra alternativa invece mi trova a questo punto io avrò un numero che sicuramente dispari e quindi il numero di piastrelle bianche sarà le piastrelle totali diviso 2 anzi meno 1 quindi piastrelle totali meno 1 diviso 2 quindi con i nostri numeri allora abbiamo che piastrelle totale è uguale lunghezza muro diviso 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 piastrella prendendo la parte intera che mi dà 12 in questo caso è pari e allora devo togliere 1 e quindi mi dà 11 le bianche saranno quindi 11 meno 1 10 diviso 2 5 e quadra quindi questo è un possibile modo di calcolarlo ok poi va bene sono d'accordo con Alexis che io ho scritto la divisione reale e poi ho fatto la parte intera del risultato avrei potuto tranquillamente usare la divisione intera con la doppio slash che mi dava già direttamente il risultato intero assolutamente sì il numero rispondo a Marco va arrotondato per difetto e non per eccesso mai infatti la funzione int prende la parte intera del numero e non sto usando un round che lo arrotonda all'intero più vicino ma sto usando un troncamento quindi convertire un intero prende sempre la parte intera intero inferiore i requisiti di progetto sì c'è scritto che le piastelle sono alternate bianco e nero c'è scritto già direttamente sul testo qua forse manca la parola alternate è vero non è proprio scritto bene questo testo si capisce dalla figura ma non c'è scritto che sono necessariamente alternate noi l'abbiamo ragionato come se lo fossero ma non c'è scritto esplicitamente quindi effettivamente è un requisito che andrebbe esplicitato sono d'accordo ok un altro metodo che propone Mattia è un metodo per tentativi Mattia ci dice potrei modificare moltiplicare la misura della singola piastella per tutti i numeri interi dispari fino a quando non si ottiene un risultato superiore a 315 a quel punto selezionare il risultato precedente quindi questo vuol dire andare in qualche modo per tentativi ok proviamo con una piastrella ci sta sì proviamo con 3 ci sta sì proviamo con 5 ci sta sì proviamo con 7 no non ci sta più allora vuol dire che il migliore risultato che ho trovato era 5 e quindi mi tengo metterlo quello è un'alternativa possibile quindi la scriviamo potrebbe essere prendi tutti i numeri diciamo così prova i numeri diciamo così per ciascun numero dispari chiamiamolo n verifica se a questo punto la dimensione della piastrella che moltiplica n è minore della lunghezza del muro ok se sì se è minore continua a cercare a incrementare n se no se no hai trovato il valore attuale il valore precedente di n è la risposta questo anche questo calcola lo stesso risultato è un pochino più pesante nel senso che devo fare tanti tentativi mentre nei due casi precedenti avevo semplicemente trovato una formula che mi dava già direttamente il risultato ok quindi possiamo ci vengono in mente idee diverse alcune più veloci da scrivere alcune più veloci da pensare altre più 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 che corrisponderanno a un programma più lungo un programma più veloce un programma più lento dovremo anche poi imparare stata facendo a valutare i meriti pro e conto delle varie soluzioni l'importante è riuscire ad avere in mente e generare delle soluzioni possibili allora fatto questo ragionamento quindi noi abbiamo ragionato soprattutto sul problema e su modi possibili per risolverlo a questo punto possiamo secondo me considerarci soddisfatti nel senso che abbiamo almeno tre modi per poterlo risolvere di cui uno lo sappiamo già anche scrivere in python con le istruzioni che conosciamo ok che è questo metodo qua che era stato proposto da Attila gli altri metodi non li sappiamo ancora proprio codificare in python perché qui c'è scritto un se e noi non sappiamo come fare un se allora in python non l'abbiamo ancora imparato e qui c'è scritto un se ma c'è anche scritto un per ciascun e quindi una diciamo così comporta un'iterazione una ripetizione che anche questo non sappiamo ancora cosa fare lo faremo nelle prossime settimane chiaramente quindi direi che l'alternativa più semplice ci pare questa perché usa semplicemente dei costrutti di calcolo allora se è così fatemi mettere commento tutto questo la parte di ragionamento di brainstorming e proviamo a cominciare a strutturare il programma ok allora il programma lo strutturiamo io vado ancora sempre avanti a scrivere commenti per il momento perché ci sarà una prima parte in cui definisco i dati di ingresso poi ci sarà una parte in cui calcolo cosa devo calcolare prima il numero di piastrelle totali partiamo partiamo dalle bianche e poi le totali bianche nere totali e poi stampo i risultati ottenuti come faccio come faccio a commentare il tutto mi chiede Andrea seleziono tutto e poi uso ctrl slash slash è questo tasto qua che sulla tastiera americana è in basso a destra sulla tastiera italiana è sul numero 7 quindi se dovrebbe fare ctrl shift per ottenere lo slash sul numero 7 ctrl shift quindi ho un programma molto semplice in cui ho questi tre passaggi per il momento non sappiamo ancora come leggere i dati della tastiera cioè farli inserire dall'utente e quindi li possiamo inserire come dati di prova ad esempio quindi possiamo mettere che la come si chiamava la lunghezza del muro sia uguale a 310 adesso qui siamo in python e quindi devo scrivere un'istruzione che sia corretta a seconda della sintesi di python quindi non potrò scrivere 310 centimetri perché centimetri python non sa che cosa siano noi abbiamo visto ieri che i tipi di dati sono i numeri interi o i numeri reali non numeri con unità di misura siamo noi programmatori che sappiamo che questo valore è da intendersi in centimetri ok il programma non lo sa per lui è un numero e farà i calcoli con quel numero quindi se per caso mettiamo un valore in metri per la lunghezza del muro è un valore in centimetri per la dimensione delle piastrelle il programma calcolerà un risultato sbagliato quindi abbiamo detto poi la dimensione piastrella definiamo una variabile che si chiama dimensione piastrella che assegniamo pari a 25 e questi sono i nostri dati di ingresso per ora li stiamo scrivendo dentro il programma in modo che questo programma lavora con questi dati la prossima volta impareremo a leggere questi dati dalla tastiera in modo che il programma chieda all'utente senti dimmi quanto è lungo il muro dimmi quanto è lungo la piastrella come facevamo con i blocchi di input quando facevamo diagrammi di flusso però per ora veramente abbiamo un numero di istruzioni di linguaggio conosciuto è veramente minimo quindi queste cose non le possiamo ancora fare poi calcolo il numero di piastrelle bianche e nero totale abbiamo detto che usavamo la 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 formula alternativa no? che calcolava le coppie di piastrelle usando questa formula qua e quindi calcoliamo allora poi ci sono due osservazioni della chat che colgo subito allora abbiamo detto coppie di piastrelle proviamo a scrivere quella formula abbiamo detto che è uguale alla lunghezza del muro meno questa qui la posso scrivere così com'è ed eventualmente uso la divisione intera in modo da avere direttamente il numero intero ok questo coppie di piastrelle altro non è che il numero delle probabilmente le piastrelle bianche e quelle nere saranno una di più allora prima di andare avanti a fare altro verifichiamo se è giusto fin qua finora abbiamo già scritto ben tre istruzioni in python è giusto il momento di verificare se il programma sta funzionando quindi proviamo a fare una print di prova semplicemente di coppie di piastrelle poi faremo le stampe belle ordinate ma per ora sono solamente una stampa di prova e noi ci aspettiamo che questo numero salti fuori uguale a 5 giusto? 5 che sono le bianche ossia le coppie allora verifichiamo dove è il tastino run qua facciamo partire il programma e ci stampa 5 che è il valore che ci aspettavamo se io cambiassi questo valore allora proviamo con piastrelle da 30 allora cosa salta fuori? noi sappiamo che 30 su 310 ci sta 10 volte 10 non va bene quindi sono solamente 9 e 9 sono 4 più 5 quindi dovrebbe essere 4 e viene fuori 4 effettivamente con la dimensione piastrella da 30 se invece rimetto la piastrella 25 e metto il muro a 330 saranno 6 320 rimarranno 5 e facciamo un po' di prove per essere sicuri che il valore calcolato a questo punto sia sensato quindi magari ci facciamo qualche esempio in cui il numero di piastrelle è pari il numero di piastrelle è dispari quindi verifichiamo se questa formula funziona sempre se abbiamo verificato bene che questa formula funziona siamo sempre nel modo corretto allora possiamo andare avanti sappiamo che fin qui il programma tra virgolette è giusto e poi possiamo andare avanti a calcolare le altre quantità quindi questo poi una volta che sono sicuro che sia giusto io gli metto un bel commento e questa print rimane qua e la tirerò fuori solamente se avrò poi dei problemi a questo punto calcoliamo le piastrelle bianche che non sono alto che il numero di coppie e le piastrelle nere che non sono altro che il numero di bianche più 1 e poi se vogliamo possiamo anche chiamare le piastrelle totali si chiamava in un certo modo avevano deciso di chiamarlo torno su numero piastrelle totali non piastrelle uguale bianche più nere oppure bianche per 2 più 1 già lo sappiamo e quindi possiamo già stampare un primo risultato che è il numero di piastrelle allora innanzitutto magari stampiamo dato un muro di e scriviamo il valore lunghezza muro centimetri e una piastrella di e mettiamo la dimensione della piastrella centimetri print a capra sulla riga dopo stamperò dovrai posizionare quante piastrelle non piastrelle piastrelle totali di cui un certo numero bianche bianche e un certo numero nere allora adesso rileggiamo come abbiamo scritto io ho messo due print un pochino lunghe in cui ho composto un messaggio che voglio mostrare all'utente e questo messaggio è fatto di alcuni spezzoni di frase e alcuni nomi di variabili separati tutti da virgole l'abbiamo già visto ieri questo metodo di mescolare un po' di string e un po' di numeri e quindi ricordiamoci che ogni volta infatti qua ho sbagliato ogni volta che metto una virgola separo una virgola la funzione print aggiunge automaticamente uno spazio e quindi in realtà questi spazi non ci servono qua e qua quando scrivo delle istruzioni di lunghe normalmente in python occorre scrivere un'istruzione per ogni riga quindi scrivo un'istruzione vado a capo e scrivo le istruzioni successiva quando ho delle istruzioni lunghe come ad esempio queste che rischierebbero di non leggersi è possibile anche andare a capo a metà solamente se sono ad esempio dentro le parentesi quindi quando python vede che c'è una parentesi aperta su una riga e questa parentesi non viene chiusa sulla riga stessa lui va avanti a leggere la riga successiva fino a quando non trova la parentesi chiusa corrispondente quindi questo ci permette nel caso in cui chiami una funzione e questa ha tanti parametri allora posso distribuire la chiamata della funzione su più righe per renderla un pochino più leggibile l'effetto è esattamente lo stesso non cambia nulla però è un pochino più leggibile allora se eseguo questo programma adesso posso cliccare il ranco a sotto mi stamperà che dato un muro di 310 cm e una piastella di 25 cm dovrai posizionare 11 piastelle di cui 5 bianche e 6 nere ok quindi il fatto che 310 siano centimetri e non metri l'abbiamo esplicitato quando abbiamo mostrato i dati all'utente quando abbiamo fatto la stampa finale un po' come ci suggeriva Alexis il programma ha fatto tutti i calcoli semplicemente lavorando con dei numeri ma poi quando devo interagire con l'utente ovviamente gli faccio vedere le informazioni i dati così come l'utente piace e questo se i calcoli che abbiamo fatto qua sono giusti queste stampe funzioneranno sempre per qualunque coppia di valori che inseriamo come dimensione del muro dimensione della piastrella ci sono ancora due cose una cosa macroscopica che dobbiamo ancora terminare che è quella di calcolare lo spazio che dobbiamo lasciare tra le piastrelle e il muro quindi a questo punto aggiungiamo lo spazio da lasciare ai lati allora questo sarà abbastanza facile perché lo spazio l'avevo chiamato in un certo modo questa variabile spazio vuoto da lasciare a ciascun lato altro non sarà che allora abbiamo detto la lunghezza del muro meno lo spazio occupato dalle piastrelle che altro non sarà che il numero di piastrelle totali per la dimensione della piastrella diviso due quindi la dimensione della piastrella è una ne ho 11 quindi 25 cm per 11 piastrelle faccio la differenza rispetto alla lunghezza del muro e otterrò lo spazio totale che avanza questo spazio dovrà essere diviso in due perché a sinistra e a destra devo lasciare la stessa quantità di spazio questo è più facile come calcolo perché non ci sono le casistiche pari e dispari da gestire e quindi potrò stampare alla fine lo spazio che rimane devi lasciare tot quindi spazio vuoto centimetri da ciascun lato ok questa stampa semplicemente questo valore è il risultato che è il risultato di questa formula di questa espressione che abbiamo calcolato mescolando delle costanti note e delle variabili che abbiamo appena calcolato sopra se lo eseguo mi dirà che devi lasciare non mi piace 17,5 cm 17,5 cm da ciascun lato che è effettivamente molto a prima vista mi ha lasciato stupito perché 17,5 per 2 fa 35 che è più grande di una piastrella ma com'è che lo spazio totale che devo lasciare è più grande di una piastrella poi mi sono ricordato che non posso aggiungere o togliere una singola piastrella ma le devo aggiungere o togliere a 2 a 2 quindi ha senso questo risultato può essere accettabile ok questo è un po' il risultato era molto semplice come abbiamo visto se vogliamo la parte più difficile è stata ragionare sulle formule sul metodo di risoluzione e poi abbiamo dovuto tradurre queste formule in python mettendo le print opportune le virgolette le virgole gli spazi però questo tutto sommato si tratta di prendere familiarità con la sintassi e tradurlo ma una volta che sappiamo che operazioni fare in che ordine farle diciamo così l'algoritmo è risolto per quello che conosciamo c'è qualche cosa che forse potrebbe non piacerci tipo ad esempio Mark mi chiede ma io come faccio ad andare a capo dove voglio io e non solamente alla fine della print lo vedremo quando faremo le stringhe sì si può inserire il carattere barra n per andare a capo un pochino più difficile a dire ma se io non volessi questo spazio qui cosa posso fare e beh vedremo anche un altro modo per fare la formatazione dell'output ma questi sono se vogliamo dettagli estetici che sono importanti però sono meno critici rispetto alla correttezza del valore del dato ok questo è un possibile programma che risolve questo problema noi lo possiamo provare con altri dati un muro da 480 la piastrella da 33 chissà cosa viene non lo so provo a caso e mi dice che devo mettere 13 piastrelle 6 bianche 7 nere rimangono 25 cm e mezzo da ciascun lato e va bene chiaro che questo programma funziona fino a un certo punto perché se io mettessi che la lunghezza del muro proviamo dei casi estremi fosse di 50 cm la dimensione della piastrella è 33 cosa mi dice ma se tutto va bene mi dovrebbe dire che ci sta solo una piastrella nera dovrei posizionare una piastrella di cui 0 bianco e 1 nera ok è giusto se io però avessi la lunghezza del muro che è solamente di 30 e la dimensione della piastrella è di 33 cosa capita e capita una cosa brutta perché mi dice dovrei posizionare meno 1 piastrelle lasciando 31 cm da ciascun lato ovviamente non ha senso questo risultato quindi questo programma funziona se i dati hanno senso perlomeno se la lunghezza del muro è maggiore o uguale della dimensione della piastrella se la lunghezza del muro fosse minore della dimensione della singola piastrella è chiaro che non mi posso aspettare un risultato corretto dovremmo imparare a far sì che i programmi prima di fare i calcoli prima di fare questo calcolo verifichino i dati se i dati sono accettabili vado avanti se non dico all'utente caro utente guarda che questi dati non sono accettabili ci arriveremo quando la settimana prossima faremo l'input e quindi la verifica dei dati di ingresso se io invece avessi un numero al limite 3333 quindi il muro è esattamente largo come la piastrella funzionerebbe? penso di sì verifichiamolo sì mi dice una piastrella di cui 0 bianca e una nera devi lasciare 0 cm da ciascun lato così come se io avessi 99 che è un numero esatto un multiplo esatto dispari della dimensione della piastrella mi dovrebbe dire correttamente una bianca e due nere lasciando 0 cm da ciascun lato quindi oltre cosa ho fatto? prima abbiamo pensato di risolvere il problema nel caso normale in un caso semplice in un caso di esempio poi una volta che abbiamo risolto il caso semplice ci siamo dovuti mettere in testa di controllare anche o di ragionare che cosa succede nei casi particolari nei casi limite quando i dati non sono validi quando i dati sono al limite dall'essere validi e verifichiamo se il programma se l'algoritmo innanzitutto prende in considerazione questi casi allora il caso in cui il muro è esattamente un multiplo della piastrella è un caso in cui non avevamo esplicitamente pensato quando abbiamo fatto i ragionamenti però è un caso fortunato in cui il ragionamento che abbiamo fatto questo vale lo tratta correttamente invece il caso in cui il muro fosse più piccolo della piastrella proprio non ci avevamo pensato e il programma in questo caso sbaglia e quindi diciamo così nel ragionamento iniziale che abbiamo fatto non abbiamo pensato un pezzo allora nel caso dell'uguaglianza non ci abbiamo pensato ma le formule per fortuna nel caso generale contemplavano anche questo caso e non mi davano nessun problema magari per carità è un po' poco estetico scrivere devi lasciare 0.0 cm magari bisognerebbe un attimo modificare il messaggio e in questo caso dire non devi lasciare spazio ai due dati forse sì ecco dal punto di vista estetico richiederebbe di essere preso in considerazione come caso particolare però il valore calcolato è giusto quindi nessuno può arrabbiarsi con me se invece quando il muro è più corto della piastrella ovviamente non ha senso risolverlo ma ovviamente è una parola che non esiste in informatica nel senso che se tu non dici il programma che la lunghezza del muro deve essere sempre maggiore uguale della dimensione della piastrella lui va avanti a fare i conti e vengono fuori i risultati in questo caso abbiamo visto il numero di piastrelle negativo che non ha senso allora in questo è proprio un caso a cui non avevamo pensato prima e dovremmo migliorare il programma per poterlo diciamo così catturare Francesco mi dice mi vengono risultati con la virgola beh può essere che tu qua abbia messo uno slash solo anziché due io ho usato la divisione intera quindi barra barra che automaticamente mi calcola la parte intera del risultato se invece facessimo solo una barra possiamo pure vederlo chiaramente proviamo con 100 viene fuori che ti servono 3,03 piastrelle perché ci siamo dimenticati di fare la parte intera della divisione ok quindi questo potrebbe essere si può fare usando la divisione intera barra barra oppure si può fare usando la funzione int che prende un numero float che è il risultato della divisione e lo converte in numero intero troncandolo e quindi è esattamente la stessa cosa fare la divisione intera oppure fare la divisione reale e poi prendere la parte intera forse è più esplicito fare la divisione intera anche se non è tanto visibile questo simbolo barra barra bisogna farci attenzione che è diverso Paola mi chiede come si fa a salvare non ce n'è bisogno nel senso che PyCharm Education salva da solo nel momento in cui ho creato il file tutte le volte lui salva in automatico e in particolare quando faccio run fa il run della versione appena salvata ok quindi non c'è un comando esplicito di salva vedete che qua c'è apri c'è nuovo ma non c'è salva ok volendo mi pare che la famosa combinazione contro l'S la tastiera salvi lo stesso ma in realtà ogni volta che faccio run ma anche se non faccio run man mano che vado avanti lui lo salva in automatico quindi non è non c'è rischio di non salvare il file Filippo mi dice non mi fa fare run sul programma e vuol dire che o non ti compare il triangolo qua se per caso non ti compare perché a volte non compare puoi provare ad andare sul nome del file tasto destro comando run questo dovrebbe sempre farlo se non lo fa magari non hai chiamato il file col nome .python però questo lo possiamo verificare a parte ok quindi ci sono ancora alcune cosette che non sappiamo fare tipo quello di gestire gli spazi un pochino l'estetica delle stampe oppure gestire gli errori come faccio a controllare e a fare cose diverse in funzione della lunghezza minima del muro eccetera però questo poco per volta impareremo a farlo ci servirà la condizionale ci servirà la formatazione eccetera eccetera finora abbiamo fatto questo programma poverino è molto semplice perché definisce delle costanti applica delle formule delle assegnazioni usiamo il termine corretto usa delle assegnazioni di variabili con delle espressioni aritmetiche l'espressione è la parte che calcola un valore l'assegnazione è la parte che memorizza questo valore in una variabile e poi stampiamo i risultati se volessimo giusto per sfizio anche perché qua non ce n'è molto bisogno vedere questo programma in modalità debug lo faccio partire in modalità passo passo ecco a volte non funziona infatti ok allora a volte a volte succede quando voglio attivare un programma in modalità passo passo in realtà non lo fa passo passo ma lo fa tutto di fila qui c'è un problema allora in questo caso non ho mai capito quando si verifica questa condizione in cui effettivamente il programma parte in modalità normale non in modalità passo passo la soluzione è semplice e basta inserire quello che si chiama un break point allora se voi cliccate qua sul margine potete in corrispondenza delle linee che contengono delle istruzioni non dove ci sono i commenti potete mettere un pallino rosso questo pallino rosso non è solamente estetico ma dice guarda che quando l'esecuzione del programma in modalità debug il debug di controllo dell'errore quando in modalità debug arriva a questo punto fermati quindi si chiama break point è un punto di interruzione cioè l'esecuzione del programma viene interrotta se io vado in modalità run normale lo ignora se invece faccio partire il programma in modalità debug viene eseguito maledetto non lo fa fino vabbè non me lo fermo adesso devo capire perché perché in realtà in modalità debug dovrebbe ok fermarsi a volte è la prima istruzione fermarsi la prima istruzione non ce la fa c'è un qualche problema è un problema di PyCharm metto il black point su un'istruzione avvio il programma in modalità debug e lui parte e si fermerà in corrispondenza del primo break point quindi se vedete che la modalità passo passo non parte provate a mettere un break point all'inizio dalle parti d'inizio e poi una volta che è entrato in modalità debug poi potete andare avanti passo passo è solo il primo avvio che a volte tentenna è un problema di PyCharm che esiste da tempo e quindi evidenzia a questo punto la riga che devo eseguire quindi questa riga lunghezza muro uguale a 100 è già stata eseguita la riga blu invece deve ancora essere eseguita infatti sotto qua sotto nella zona variabili mi fa vedere che questa variabile lunghezza muro è già stata inizializzata col valore intero 100 e man mano che io vado avanti usiamo sempre questo tastino qua step over finché non vedremo le funzioni che ci serve vado avanti di un passo lui esegue la riga dimensione piastrelle uguale a 33 e mi fa vedere qua sotto il valore di questa variabile e mi evidenzia contemporaneamente in blu la riga che sto per eseguire e così via vado ancora avanti di un passo esegue coppie piastrelle quindi compare questa variabile nuova che vale 1 e si predispone a eseguire questa alta riga e così via ok ve lo solo farvelo vedere perché ieri abbiamo già visto l'esecuzione passo passo ma non avevamo ancora nessuna variabile definita nel programma adesso che ci sono le variabili via via che il programma python inizializza una nuova variabile questa compare automaticamente dentro l'elenco delle variabili che stiamo osservando addirittura lui te lo scrive in grigio a fianco di ciascuna riga di istruzione dice guarda che questa qua ha calcolato nere ecco nere valeva 2 è lo stesso valore che viene scritto qua sotto e se ci fate caso alcune delle variabili vengono scritte in rosso altre in blu quelle in blu sono quelle che sono appena cambiate quindi in qualche modo di colore di colore diverso le modifiche recenti così saltano all'occhio più facilmente e poi quando arriviamo alle istruzioni di print chiaramente compaiono nella console di debug dove è finito ok fa la stampa e compare qua il messaggio che ha stampato il programma anche qua qui ci devo cliccare due volte perché ovviamente la print l'ho divisa su due righe e quindi devo fare più clic prima che la print completa venga eseguita ma sulle print non abbiamo bisogno di fare debugging Andrea mi chiede cosa vuol dire 0-1 a fianco ecco se ci vado sopra col mouse mi dice che è un valore di tipo primitivo primitivo ossia intero numerico stringa eccetera tipo predefinito potrebbero essere dei tipi più complessi tipo list tipo insiemi eccetera che vedremo via via allora cambierebbe l'icona con cui vengono rappresentati quindi nel caso in cui vedessimo che il programma calcola dei valori sbagliati potremmo anche qui andare a capire passo passo che cosa fa che cosa sta facendo ok molto altro direi che su questo esempio non riusciamo diciamo così a vedere proprio per la sua per la sua semplicità essenzialmente no? allora se non ci sono altri allora quello che io vi consiglio sempre di fare quando facciamo un esercizio è magari provare a giocarci cambiare un pochino le condizioni e provare a risolvere un esercizio simile che magari vi inventate così tanto per vedere se dovendo riprendere un ragionamento da zero ci riuscireste a farlo ecco quindi sia potete prendere un esercizio nuovo dal libro oppure questo qua era nel paragrafo 2.3 quindi quella parte del libro in cui siamo arrivati oppure semplicemente prendere questo esercizio modificarlo un po' a vostro piacimento chiaramente esercizi che per il momento siano solamente esercizi di calcolo perché non abbiamo ancora la conoscenza di come fare le scelte o di come fare le iterazioni sono gli argomenti che affronteremo nelle prossime settimane qui c'è una possibile soluzione nelle slide ma chiaramente noi ci siamo arrivati indipendentemente per conto nostro che è quello che conta allora se non ci sono altri dubbi su questo programma io spenderei i 20 minuti che ci rimangono a cominciare a introdurre l'altro tipo di dati fondamentale di python che sono appunto le stringhe le abbiamo già visto ieri e le abbiamo già usate adesso nelle print però cerchiamo di capire mentre sui numeri sapevamo tutto come si fa la somma la moltiplicazione l'elevamento potenza le stringhe è un tipo di dato con cui non siamo abituati a lavorare e quindi magari un pochino di più dobbiamo capire quali operazioni sono possibili se Biagio mi sta chiedendo se caricherò il programma sul portale la risposta è sempre sì ovviamente farò alla fine di questa lezione un file che si chiama settimana2.zip e lo metto non sul portale della didattica ma sulla pagina del corso dove trovate tutto il materiale tutto le slide eccetera ok quindi questo sempre alla fine di ogni settimana vi do i file su cui ho lavorato ok parliamo di stringhe allora la stringa è un tipo di dato python tutti i linguaggi di programmazione hanno un tipo di dato stringa che serve per rappresentare informazioni di tipo testuale un testo o una stringa è formata da una sequenza di caratteri ok quindi qui ci sono tre termini diversi stringa ciò che stiamo definendo e stiamo dicendo che è una sequenza di caratteri sequenza vuol dire un insieme ordinato cioè c'è un primo un secondo un terzo un quarto non sto dicendo un insieme di caratteri un gruppo di caratteri sto parlando specialmente di sequenza una sequenza mi mi dice che sono in un certo ordine e che cosa ho messo negli ordini i caratteri un carattere che cos'è è un singolo segno è una singola mi verrebbe dire lettera ma non sono solo lettere perché un carattere può essere lo spazio è un carattere il punto è un carattere e quindi non sono solamente i caratteri sono le lettere i numeri e i segni di punteggiatura ad esempio ok quindi una stringa non è altro che una sequenza di caratteri qualsiasi racchiusa tra apici apici semplici doppi scusatemi o apici semplici virgolette doppie o virgolette semplici python accetta entrambi i tipi di virgolette purché se io apro una stringa con l'apice doppio lo chiudo con l'apice doppio se l'apro con l'apice singolo la chiudo con l'apice singolo questa dualità di possibilità di usare la sintassi per costruire una stringa mi torna anche utile se dovessi costruire una stringa che al suo interno contiene un'apice per cui ad esempio se dovessi costruire la stringa che è rappresentata qua sotto isaid spazio doppio apice hello doppio apice se voglio che il carattere di doppio apice faccia parte della stringa allora questa stringa a sua volta la potrò includere in apici singoli quindi vuol dire che qui inizia la stringa qui termina la stringa all'apice singolo di chiusura rispetto a questo di apertura e ciò che sta dentro tutto ciò che sta dentro escluso un apice singolo che farebbe terminare la stringa tutto il resto compreso un apice doppio fa parte della stringa stessa quindi mi può far comodo se devo inserire dentro la stringa un carattere apice usare come delimitatore di stringa l'altro tipo di apice che operazioni posso fare con le stringhe allora una l'abbiamo già vista ieri un po' per caso facendo delle prove l'operazione più semplice che posso fare con due stringhe è la addizione o meglio la concatenazione ho due stringhe e costruisco una terza stringa che è ottenuta con tutti i caratteri della prima stringa a cui seguono tutti i caratteri della seconda stringa attenzione che questa concatenazione aggiunge solo i caratteri che sono presenti nelle stringhe non è che aggiungi uno spazio in più per buona misura come farebbe invece la funzione print quando stampo due stringhe mi stampa una stringa spazio di separazione altra stringa qui siamo a un livello più basico di manipolazione del dato vero e proprio e quindi possiamo anche vedere direttamente nella console di python posso avere una stringa nome fulvio una stringa cognome uguale corno tanto per dire una persona che conosco e che notate che nella console di python anche qua mi fa vedere di fatto automaticamente la console di python lavora in modalità debugging e quindi mi fa direttamente vedere anche le variabili di quale posso ispezionare facilmente vedete che questi sono variabili 0,1 predefinite di tipo stringa e se io facessi la so la provassi a usare nome più cognome ecco la la console di python ha diciamo così la caratteristica in più che se io scrivo un'espressione me la stampa subito senza necessariamente dover scrivere il comando la funzione print è un po' una scorciatoia un po' comoda quindi se io scrivo nome più cognome mi stampa questa stringa che è il nome più cognome concatenati ovviamente è un'operazione che non è commutativa a differenza della somma quindi non è una somma perché se io scrivo cognome più nome ovviamente viene fuori al contrario quindi noi stiamo usando il simbolo dell'addizione per rappresentare un'operazione di tipo diverso per rappresentare l'operazione di concatenazione di stringhe stiamo riusando lo stesso simbolo per una funzione per uno scopo diverso non c'è nulla di male l'importante è capirsi python capirà che se deve sommare due interi o due reali con il simbolo più cognome più nome se cognome e nome fossero due reali o due interi allora questo più viene interpretato come addizione se cognome e nome sono entrambe stringhe come è in questo caso allora questo più viene interpretato come concatenazione di stringhe e il risultato sarà la stringa concatenata ovviamente se abbiamo già visto ieri se cerco di concatenare una stringa e un numero lui si arrabbia perché non sa che cosa fare e genera errore ovviamente questo non è un bel vedere mettere il nome e cognome appiccicati se volessimo mettere uno spazio in mezzo ovviamente dovremmo aggiungere fare una addizione di tre stringhe il cognome lo spazio e il nome attenzione che lo spazio è una stringa che contiene apice spazio apice quindi non si vede che in mezzo c'è uno spazio ma c'è perché lo voglio inserire nella stringa stessa attenzione che se dimenticassi lo spazio questo sarebbe un'istruzione valida cognome più una stringa che tra i propri apici non contiene niente la stringa vuota la chiamiamo e infatti in realtà non fa nulla non aggiunge niente non aggiunge nessun carattere questa stringa non contiene nessun carattere quindi quando la concatenano da altri non cambia il risultato però facciamo attenzione che la stringa vuota non è la stessa cosa di una stringa che contenga uno spazio questa contiene un carattere quest'altra la stringa vuota contiene zero caratteri ovviamente la stringa vuota per le stringhe è un po' come lo zero per l'aritmetica sommato non fa nulla ecco parlando di caratteri chiaramente se ho una sequenza di caratteri è importante sapere quanto è lunga questa sequenza abbiamo detto che la stringa vuota contiene zero caratteri la stringa lo spazio contiene un carattere ecco come faccio a sapere quanti caratteri contiene una stringa c'è una funzione che si chiama len che estrae la lunghezza di una stringa data quindi se io nel mio esempio calcolassi la lunghezza della variabile nome questo è il valore 6 perché il nome in questo caso contiene 6 caratteri mentre la lunghezza del mio cognome vale 5 allora len è una funzione che riceve come parametro una stringa un valore un'espressione il cui valore sia di tipo stringa e restituisce un valore intero un numero quindi da stringa mi restituisce un intero che corrisponde al numero di caratteri compresi nella stringa stessa se io calcolassi la lunghezza della stringa che contiene uno spazio mi darebbe 1 e se calcolassi la lunghezza della stringa vuota apice aperto apice chiuso mi darebbe 0 ok quindi la funzione len mi dà la lunghezza di una stringa ossia definita come il numero di caratteri di cui questa stringa è composta che può andare da 0 al numero di caratteri totale non c'è limite superiore alla lunghezza delle stringhe che possiamo creare in python quindi il programma il python non si confonde quando usiamo più per fare cose diverse ma dobbiamo fare attenzione noi quando scriviamo in un programma a uguale b più c siamo noi che dobbiamo sapere se quel b e quel c sono stringhe o sono interi per sapere se quel più è una dizione o una concatenazione il programma se ne accorge a tempo di esecuzione quando arriva a quel momento va a vedere b e c che tipo hanno e quindi in quel momento decide quale operazioni fare ma noi quando lo stiamo scrivendo il programma probabilmente abbiamo deciso a monte che cosa vogliamo fare quindi lo sappiamo già come verrà usato quel simbolo questo viene fatto per semplificare per non avere un linguaggio con tanti comandi con tanti diciamo così simboli diversi si riusano gli stessi simboli per scopi diversi quando questo non crea confusione in pratica vedremo che il simbolo di più si userà anche sulle liste si userà anche su altri tipi di strutture dati non ci deve preoccupare se ci sono delle combinazioni che invece non hanno senso ci dobbiamo già aspettare un errore in fase di esecuzione del programma ecco ci sono anche altre operazioni strane che possiamo fare sui stringhe ad esempio la moltiplicazione perché non è proprio la moltiplicazione l'operazione di cui parliamo è la ripetizione cioè io posso in python prendere una stringa e moltiplicarla per un numero intero questo mi dà come risultato la stringa di partenza concatenata con se stessa tante volte quanto indica il numero intero quindi se uno fosse particolarmente narcisista potrebbe scrivere 10 volte il proprio nome quindi scrivere il mio nome per 10 e allora creerebbe una stringa che contiene i caratteri del nome ripetuti 10 volte poi così è brutto da vedere magari mettiamoci uno spazio in mezzo allora che cosa faccio prendo il nome ci aggiungo uno spazio in fondo creando quindi una stringa che contiene il mio nome più uno spazio in fondo e questa la ripeto 10 volte e quindi in questo caso me lo stampo e muore un pochino più leggibile perché c'è lo spazio in mezzo potete con questo trucco qua farvi la tappezzeria di camera vostra ripetendo il vostro nome tante volte questo è anche un altro operatore si usa poco essenzialmente non è che sia molto utile replicare le stringhe con catenella con se stessa però anche qua usa il simbolo di moltiplicazione che per i numeri ha un certo significato per le stringhe ha un significato punto di moltiplicazione per le stringhe ha un significato di ripetizione ovviamente non è intelligente nel senso che visto che io ho messo un nome seguito da uno spazio ripetuto 10 volte lui ripeterà 10 volte questi 7 caratteri più nome e lo spazio il nome e lo spazio e infatti se vado a vedere alla fine di questa stringa vedete che c'è uno spazio qua in fondo che non serve a niente però io gli ho detto di metterlo perché lui non capisce che lo spazio come ultimo carattere non serve a niente ovviamente faccio che gli dico e non può capire che questo potrebbe non servire se non volessi questo spazio come ultimo carattere cosa posso fare? e potrei modificare un pochino la forma dicendo che mettiamolo 9 volte solamente e poi ci aggiungiamo il nome alla fine un'ultima volta senza lo spazio concatenato e quindi abbiamo in questo caso evitato di aggiungere uno spazio di troppo cosa sta succedendo? sta succedendo che una volta che io conosco quali sono le operazioni che posso fare con le stringhe in questo momento ne sono solamente due la concatenazione e la ripetizione anche qua potrò costruire delle espressioni anche complicate che usano le stringhe stesse così come sappiamo costruire espressioni aritmetiche che usano i numeri interi i numeri reali impariamo a costruire delle espressioni che usano questo tipo di dato nuovo chiaramente con le operazioni che ha senso fare su questo tipo di dato e anche qua a seconda del risultato che dobbiamo ottenere scriveremo una formula opportuna a questo punto abbiamo due tipi di dati diversi numeri e stringhe e quindi l'altra domanda che ci facciamo è se è possibile passare da un tipo di dato all'altro o viceversa Marco mi chiede se posso fare anche la sottrazione di stringhe la risposta è no ci sono altri modi di farlo ma non consegno meno si possono cancellare dei caratteri di una stringa ma non col segno meno lo impareremo tra poco tra poco vuol dire la settimana prossima direi visto l'orario allora numeri e stringhe come facciamo a passare da uno all'altro beh ci sono due funzioni ieri abbiamo già visto int e float che permettevano di prendere un intero e convertirlo in float oppure un float convertirlo in intero ecco esiste anche una funzione che si chiama str che converte il proprio argomento sotto forma di stringa vediamolo interattivamente se io avessi a che è un numero 10.3 è un punto 4 va bene così vedete che a è un float poi io potrei definire b uguale a str di a quindi prendo un numero intero intero reale e applico la funzione stringa a quel valore quello che ottengo lo vedete qua e lo possiamo anche vedere qua stampando il loro db è una stringa in questo caso di 4 caratteri perché l'1 lo 0 il punto decimale e il 4 sono 4 caratteri che rappresentano il numero che rappresentano diciamo così la scrittura del numero a del valore che conteneva la variabile a sono due cose diverse chiaramente il primo è un numero il secondo è una stringa quindi se io faccio a più 1 me lo calcola se faccio b più 1 invece mi dà errore perché b nonostante sia 10.4 è una stringa 10.4 quindi non può non posso fare delle operazioni aritmetiche usando questa stringa anche se dentro ha scritto una cosa che somiglia a un numero ok quindi sono due diciamo così tipi di dati diversi e se io volessi tornare indietro data una stringa trovare il numero float corrispondente quindi io avessi qualcuno che mi ha scritto un dato di ingresso sotto forma di stringa quindi 312 virgola 55 questa è una stringa l'ho messa tra virgolette come faccio a trovare il numero corrispondente posso usare la funzione float applicata a questo dato e la posso memorizzare in un'altra variabile che ne so d dove si vede che questo dato qua era una stringa tra virgolette mentre d è un float quindi per passare da numero a stringa posso sempre usare la funzione str e mi crea una stringa corrispondente che contiene i caratteri che avrei stampato se stampassi se volessi in questo momento stampare il valore di quella variabile semplicemente anziché stampare la video me le metti in una stringa così poi la posso a sua volta manipolare trasformare se mi serve la funzione la funzione inversa è dato una stringa che contiene la rappresentazione di un numero usata la funzione int o la funzione float per estrarre il valore numerico corrispondente a quella rappresentazione perché mi serve cioè magari prima quando io ho scritto dato uguale 312,55 tra virgolette avete pensato che sono una persona un pochino strana perché se devo mettere un numero perché mai quando mai mi verrebbe in mente di scriverlo sotto forma di stringa e non direttamente sotto forma di numero ecco questo lo vedremo direttamente la settimana prossima perché tutte le volte che leggiamo un dato dall'utente quindi facciamo l'operazione di input questo ritorna sempre una stringa quindi quando noi leggiamo un dato dall'utente questo ritornerà sempre un dato sotto forma di stringa e se quel dato in realtà era un numero devo come prima cosa convertirlo in numero sia esso intero sia esso reale a seconda di che cosa devo fare quindi ogni volta che facciamo dell'input da tastiera l'input leggerà o anche da file quando impareremo più avanti l'input leggerà sempre delle stringhe poi siamo noi che dobbiamo dalle stringhe andare a estrarre il valore numerico dove ovviamente ci sia un valore numerico da estrarre perché se io provassi a fare un int di ciao dove ciao ovviamente è una stringa qualunque e ha tutto il diritto di esistere come stringa ma ovviamente i suoi caratteri c, i, a, o non stanno rappresentando un numero intero e quindi quando provo a fare l'operazione di int python ci prova ma poi dice guarda non ci riesco perché con questo messaggio un po' particolare dice literal è la parola in python che indica una costante quindi la costante non è valida per la funzione int in base 10 e questa è la costante stringa che ha cercato di convertire lui ti sta dicendo guarda che in base 10 c, i, a, o non è un numero valido ti dice in base 10 perché in realtà è possibile dire la funzione int di usare delle basi diverse della 10 andiamo a vedere la documentazione e se volete sapere come fare a leggere numeri in base diverse da 10 ma in questo momento non ci interessa anche perché non abbiamo adesso il tempo di approfondirlo quindi è sempre possibile passare da stringa intero no contratto scusate ho cancellato l'ultima frase è sempre possibile passare da numero intero o numero reale a stringa invece l'operazione inversa da stringa a numero è possibile solo se la stringa effettivamente al suo interno contiene una rappresentazione corretta del numero altrimenti verrà generato un errore che viene identificato come error di valore value error ok questo per quanto riguarda le stringhe che contengono numeri in generale però le stringhe non sempre non necessariamente le usiamo per rappresentare dei numeri le possiamo utilizzare per rappresentare dati di tipo diverso qui ci sono due frasi che poco per volta andremo sembrano semplici ma poco per volta andremo poi a sviscerare perché da lì nascono poi tutte le operazioni che possiamo fare con le stringhe la prima la sappiamo già abbiamo detto che le stringhe sono fatte di caratteri non abbiamo ancora capito bene cosa è un carattere ve l'ho detto così a voce adesso cerchiamo poi di capire effettivamente che tipo di dato è il carattere e quindi che valori può avere che operazioni posso fare sul singolo carattere e di conseguenza sull'intera stringa e poi l'altra caratteristica molto curiosa chi viene da altri linguaggi come il C invece non funziona così mentre invece funziona così ad esempio in Java le stringhe sono un tipo di dato immutabile cioè una stringa non può essere modificata dopo che l'ho creata posso usare la stessa variabile per puntare una stringa diversa ma non posso modificare la stringa stessa un esempio se io scrivessi che il mio nome è lo scrivessi con la lettera minuscola pulvio con la F minuscola ho una variabile che ha un certo valore questa variabile contiene sei caratteri ok però c'è un errore sbagliato in Python non c'è nessun modo di andare a modificare questo primo carattere cioè una volta che è messo dentro quella stringa non la posso modificare ha sei caratteri questi caratteri sono questi sei f u l v minuscolo e non si possono più modificare ok non c'è nessun modo di modificare un carattere singolo all'interno di una stringa né di aggiungere un carattere né di cancellare un carattere una stringa è un tipo di dato immutabile cioè questo valore una volta creato non può più essere modificato poi ovviamente potrei anche scrivere cose di questo genere nome uguale nome più che non so punto e che cosa fa voi dite ma sì però allora l'hai modificato perché adesso ce l'hai giunto un punto quindi sei riuscito a modificare quella variabile in realtà no ho calcolato una nuova stringa ricordate il discorso che facciamo ieri guardo il lato destro prendo nome che è una stringa di sei caratteri prendo il punto che è una stringa di un carattere e li concateno ottengo qua una stringa di sette caratteri e guarda caso riassegno questa stringa sempre la stessa variabile ma il valore precedente non l'ho cambiato questo è un dettaglio che per ora non ci porta molte conseguenze vedremo quando faremo le liste che invece dovremo fare molta attenzione a questa a questa sottigliezza ok per ora l'unica cosa che sappiamo è che se devo modificare una stringa quindi aggiungendo un carattere modificando un carattere cancellando un carattere ciò che python mi lascia fare è costruire un'altra stringa nuova in cui quel carattere sia diverso sia aggiunto sia modificato sia cancellato e non posso modificare la stessa stringa me ne accorgo in realtà non me ne accorgo tranne quando ho due variabili ricordate le freccioline che abbiamo visto con python tutor le riprenderemo sicuramente martedì prossimo le mercoledì prossimo scusate due freccioline diverse quindi due variabili che puntano allo stesso valore allora lì sì che mi accorgo se sto modificando un valore o se sto creando un valore nuovo questo ve lo metto qua come pulce nell'orecchio perché effettivamente è un punto su cui dovremo ragionare capire un po' meglio e lo faremo dalla settimana prossima per il momento ci possiamo fermare qua a una conoscenza di base di quello che è il tipo di dato stringa e poi lo riprenderemo da mercoledì in avanti se facciamo un errore come lo cambiamo chiede Attila costruisci una nuova stringa in cui l'errore si è modificato quindi posso costruire nuove stringhe modificando quelle attuali però semplicemente le ho costruite diverse nuove e sostituiscono quella vecchia però come vi dicevo ci dedicheremo il tempo che serve la prossima volta perché è un tema che diciamo così in dieci secondi non si riesce purtroppo a sviscerare ok se non ci sono quindi ulteriori domande dell'ultimo minuto vi saluto vi ricordo il laboratorio di martedì sempre nei vari turni e poi ci vediamo invece in aula il mercoledì insieme per il seguito di questo argomento grazie di tutto buon weekend a tutti ciao grazie